ciao bella gente benvenuti in mio canale in questo video invece voglio condividere con voi tre metodi per fare dei quadri fatti in casa e fai da te semplici veloce ma soprattutto con la vostra fantasia allora io ho preso i colori che ho a casa un giallo rosa il nero il blu e ho preso una catenina che dopo la potete lavare tranquillamente e va via il colore non c'è problema l'ho avvolta dentro questi colori come vedete ho cercato di immergerli che prenda proprio i colori che ho voi potete utilizzare tutti i colori che volete a casa o i colori che potete comprare potete comprare tranquillamente da una cattoleria nei supermercati ma anche dei cinesi io sinceramente ho usato quelli che ho a casa dopodiché ho preso un foglio un foglio normale potete utilizzare sia da disegno che un foglio normale di a 4 ho dato una forma alla catena ho cominciato a tirarla o a stesciarla perché volevo dare una fantasia un po particolare che dà un colore forte e Grazie a tutti. Grazie a tutti. per fare un quadro molto molto carino ma nello stesso momento non ci vuole tanto per farlo allora ho preso rosa e l'ho applicato sulla catena del giallo e del blu perché casa mia sicuramente volevo basarla proprio sul blu e ho fatto diversi quadri in casa che ho fatti blu perché è una casa tutta bianca quindi volevo montare un tocco del blu aggiungo che proprio mi piace l'idea di mettere in blu in casa dà un po' di energia e spalmo bene 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 la catena prendo un foglio a 4 e faccio metto la catena in questa maniera come vedete in questo modo metto un altro foglio sopra schiaccio con la mano e comincio a tirare a 4 Invece adesso vi faccio vedere la terza tecnica per fare un quadro meraviglioso, bellissimo, un pochettino più complessa con le altre due tecniche. Prendo delle vernici bianche, la spalmo su due quadri, la spalmo in una maniera omogenea su tutto il quadro. Questi quadri li ho comprati dei cinesi, credo che li ho pagati 1,50 euro all'uno e sono piccoli, come vedete, il spalmo viene che deve essere omogenea alla superficie del quadro. Comincio a fare anche la seconda parte, il secondo quadro. Prendo del blu, della vernice blu e l'allungo con un pochino di acqua e poi la metto perché volevo fare tipo due quadri per uno che continua l'altro allungo del colore blu perché per darne un po' di intensità. Ho preso del rosa e l'ho diluito con l'acqua e prendo questo tubetto che c'era dentro il giallo e ho aggiunto del blu per creare il verde e l'ho applicato su questo quadro. Comincio a spalmarlo bene con le dita. Aggiungo qualche goccia di rosso, ho usato il crazy color per i capelli perché non ci avevo il rosso e ho aggiunto del giallo. La mia idea è quella di creare un colore, un quadro colorato però bello. Sembra, il risultato è molto bello, mi piacerà. Comincio a spalmare con le mani e ho preso il bicchiere che avevo dentro il rosa diluito con l'acqua, ci ho messo del dorato. Comincio a sparare un pochettino con il phon, solo che era troppo liquido e mi risparava troppo forte, allora ho deciso di soffiare. Prima spalmavo con le dita per rendere i colori omogenei. Cerco di dare continuità ai due quadri. e comincio a soffiare. Potete soffiare oppure usare una cannuccia. Come vedete ho infilato anche i capelli perché ovviamente i miei capelli finiscono dappertutto. Continuate a soffiare finché vi da un risultato super facente perché come vedete è sempre un'immagine presa da un satellite della terra. Mi piace tantissimo. Soffiate, soffiate, soffiate. Sapendo che il secondo quadro ha perso il blu che io volevo, ho deciso di aggiungere un altro po' di blu di colore diluito con dell'acqua. Ho messo delle gocce in giro nei punti dove mancava e ho cominciato a stenderlo soffiando. Come vedete. Come vedete il risultato è stupendo. Mi sinceramente piace, poi va ovviamente a gusti. Potete utilizzare tutti i colori che volete, le tonalità che volete. Io volevo il blu quando ho aggiunto più blu. Il risultato è veramente molto bello. Un quadro fai da te, arte pura, fatta col cuore per decorare la vostra casa come volete voi. Spero che vi è piaciuto questo video. Spero che vi piace il mio canale. Se vi piace questa idea, questa decorazione per la casa, lasciatemi un like e lasciatemi un commento. Se vi interessa vi faccio dei video come questo. Bella gente, alla prossima e buona domenica a tutti. Ciao belli! Grazie a tutti